Buonasera a te rispettatori di Nettuno TV, buonasera a chi ci segue anche in streaming NettunoTV.tv Apriamo subito con la cronaca, dunque ha confessato il marito della donna trovata assassinata in casa nei giorni scorsi ad Armarolo di Budrio La donna si chiamava Annalisa Cacciari, 65 anni, rinvenuta senza vita all'interno della sua abitazione in una villetta Ha confessato nella notte il marito, 69enne, Atos Vitali, avrebbe ucciso la moglie in un impeto di rabbia dopo che lei lo aveva rimproverato perché era in ritardo Sarebbe stata questa, secondo il racconto e la confessione di Atos Vitali, la causa scatenante della lite, degenerata poi in omicidio lunedì mattina, come detto a Armarolo L'uomo ha confessato dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori e quanto, diciamo perché erano emerse dall'analisi di alcuni filmati di videosorveglianza Alcune incongruenze, in particolare nelle ore precedenti il delitto, l'uomo aveva riferito di essere andato a Granarolo mentre la sua auto era stata vista a Minervio Il 69enne è così crollato, ammettendo di aver ucciso la moglie, Anna Lisa, verso le 9.30, appena rientrato a casa in uno scatto d'ira Utilizzando un coltello da cucina dal manico rosso che era sul tavolo che poi l'uomo ha lavato e rimesso nel ceppo con gli altri coltelli L'arma che i carabinieri hanno peraltro trovato ancora sul posto L'uomo ha poi ricostruito di essere uscito dalla villetta dopo un giro in macchina, aver fatto ritorno in tarda mattinata fingendo di trovare in quel momento il corpo della moglie E poi il resto è cronaca Cambiamo decisamente pagina, parliamo dell'istituto professionale edile di Bologna Parliamo della scuola, parliamo del... oggi ha aperto le porte all'Arcivescovo di Bologna Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi che ha fatto visita La gioia e la soddisfazione da parte di tutto lo staff, docenti, non docenti, studenti, direttore e anche del Presidente Vignoli Andiamo a sentire questa intervista che abbiamo realizzato col Presidente del Iple Vignoli e all'Arcivescovo Qui si fa scuola, come dicevo prima, si creano i maestri del futuro, maestri nel lavoro e maestri di vita I ragazzi partono dai 15 anni ai 18, quindi diciamo quando finiscono questo percorso sicuramente avranno e nel passato hanno avuto subito il lavoro Questa è una cosa molto importante Abbiamo nei corsi anche tante etnie che riusciamo a compattare tra di loro Ecco eccellenza, partiamo da questo Nel senso che qui diventa un vero e proprio laboratorio di integrazione anche oltre che di formazione e di lavoro Convivono culture diverse, forse anche modi diversi di lavorare Probabilmente in Africa le case si costruiscono diversamente Ecco, è un laboratorio vero e proprio Beh, direi che è il cantiere anche del nostro futuro Perché questo penso che quello che abbiamo visto oggi sarà il cantiere Ma adesso già comincerà sempre di più a trasferirsi nella vita vera Per cui la formazione è fondamentale, non c'è dubbio E adesso colpito da come anche i ragazzi vogliono imparare Dare fiducia vuol dire aprire delle prospettive che sono quelle per ognuno di loro Quelle che cercano, proprio scappando dal loro paese Venendo, affrontando dei rischi, proprio perché cercano queste prospettive qui E però poi in fondo diventano anche le nostre Sono le prospettive per i cantieri di domani Senta il lavoro manuale Si parla molto di quello intellettuale Ma c'è un lavoro manuale che è fondamentale ed è anche bello Perché uno tocca con mano e costruisce qualcosa Non c'è un lavoro di serie A e di serie B E qualche volta c'è un lavoro di serie A Che dove ci sta gente di serie B C'è un lavoro di serie B dove ci sono tante gente di serie A Il lavoro è lo stesso, il lavoro richiede anche qui tanta preparazione, tanto aiuto E beh una realtà come questa mi sembra che sia davvero Domenica abbiamo ascoltato la parola dei talenti E qua è veramente aiutare il talento che è ognuno È un bel investimento Presidente adesso la responsabilità è doppia Sicuramente perché poi noi rappresentiamo la città Quindi tutta la città è qui, tutte le forze sono qui dentro E dobbiamo dare questa risposta a partire dagli ultimi E trovare all'interno della città le migliori condizioni Per non avere diciamo anche all'interno delle nostre famiglie Le problematiche che abbiamo avuto magari negli scorsi anni Restiamo in qualche modo a parlare di scuola Dopo la sentenza della Cassazione che impone la sorveglianza dei ragazzi All'uscita delle scuole medie Il direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Versari Fa il punto sulle responsabilità dei dirigenti scolastici Anche dei genitori ma intanto apre con una precisazione L'intervista di Michela Conficconi Tanto aspettiamo che esca la legge Quando uscirà la legge ne valuteremo gli effetti sostanziali Quello che deve rimanere chiaro è che indipendentemente dalla legge Indipendentemente anche dall'autorizzazione da parte dei genitori Eventualmente che i propri figli possano autonomamente andare Tornare alle proprie case È necessario valutare il rischio che si determina all'uscita da scuola Il rischio può essere determinato ad esempio da situazioni viarie Per questo collaborando con il responsabile del servizio di protezione Con i vigili urbani, con le forze dell'ordine E valutare quali sono i rischi E cercare di intervenire sui rischi Indipendentemente dall'autorizzazione che potranno o meno ricevere gli studenti Occorrerà vagliare anche caso per caso Secondo delle singole situazioni dei ragazzi? Certo, se dovesse esserci una situazione In cui la famiglia ritenesse di concedere comunque L'autorizzazione dei casi ad un movimento a casa al proprio figlio E vi fossero elementi a conoscenza della scuola Che sconsiglino questo Sarebbe il caso di valutare, di chiamare la famiglia Per cercare di capire il contesto E anche magari le fragilità del ragazzo Per evitare che si determinino situazioni di pericolo Convegno organizzato oggi da Conf Cooperative dell'Emilia Romagna Proprio per presentare quella che è l'offerta Il progetto del mondo cooperativo per le scuole Per attuare anche nell'ambito delle cooperative Il sistema dell'alternanza scuola-lavoro Abbiamo intervistato il direttore di Conf Cooperative Emilia Romagna Pier Lorenzo Rossi Lo ha fatto per voi, Michele Conficoni Ho firmato un protocollo in dicembre del 2016 Quindi sostanzialmente un anno Il gruppo iniziale era di una trentina di cooperative Oggi siamo oltre 100 cooperative È stato un lavoro anche di sollecitazione da parte dell'associazione Ma sicuramente c'è anche una sensibilità delle cooperative Nei confronti della scuola, nei confronti dei giovani D'altra parte la cooperativa è una società internazionale Quindi oggi abbiamo cooperative che hanno oltre 100 anni E quindi sono cooperative che hanno addirittura soci Persone che magari sono state La cooperativa stessa è stata fondata dai nonni Nel settore agroalimentare questo è frequentissimo E allora ecco, questo tema di pensare al domani Di pensare ai giovani Di pensare di trasferire anche il modello cooperativo I principi cooperative ai ragazzi Per noi rappresenta anche un modo per dare un contributo Di crescita alla società A quali ambiti appartengono le cooperative che hanno dato la disponibilità? A tutti gli ambiti Perché abbiamo cooperative agricole Abbiamo cooperative social Abbiamo cooperative nel settore dei servizi, del turismo È chiaro che a noi sta il compito Di andare a fare incontrare l'istituto Con le cooperative che svolgono un'attività più attenente Al ruolo e all'attività dell'istituto stesso Questo pomeriggio presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna C'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 Alla presenza ovviamente di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi Gran cancelliere della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna E i relatori sul tema I giovani raccontano la vita, la ricerca di nuove connessioni La presidente della RAI Monica Maggioni E padre Antonio Spadaro Direttore della Civiltà Cattolica Il tema della prolusione accademica Richiama direttamente il prossimo Sinodo dei Vescovi Che è stato convocato per il 2018 La Papa Francesco Che mette a tema proprio i giovani La fede e il discernimento vocazionale Oggi più che mai anche in Europa I giovani desiderano essere parte attiva Dei processi di cambiamento del presente Misurandosi anche con la sfida della multiculturalità Al termine della prolusione È stato il gran cancelliere Della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna Monsignor Matteo Zuppi E il prorettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Professor Mario Taccolini A firmare la convenzione tra le rispettive istituzioni accademiche E adesso ci spostiamo invece sull'appennino bolognese Perché questa mattina è stata l'occasione di firma Tra il sindaco della città metropolitana di Bologna Virginio Merola e il sindaco di Prato Di un accordo proprio per stringere Sulla promozione del territorio Sempre più intese e sinergie Per valorizzare questo territorio Che è davvero confinante E per cercare di promuovere sempre più l'impegno E la valorizzazione di queste zone dell'appennino E non solo Quindi quest'oggi diciamo C'è stato con le immagini che state vedendo Ora sta parlando il sindaco di Prato E appunto accanto a lui il sindaco Virginio Merola Che da poco era appunto intervenuto Adesso parliamo invece Della settima convention nazionale Nazionale di Confabitare Il tema è quello della legittima difesa Della sicurezza Quest'oggi ospite della nostra prima edizione Del telegiornale C'era il presidente nazionale di Confabitare Alberto Zanni Allora andiamo a fare il punto Su questa convention che si terrà Venerdì prossimo Sentiamolo E' un tema drammaticamente attuale E noi come nostro ruolo Perché è l'associazione che tuteli proprietari immobiliari Dobbiamo sollevare queste questioni Quindi sicuramente Cosa di portare all'attenzione Dell'opinione pubblica Quindi dei politici E di tutti coloro che sono Diciamo interessati al settore Questo tema E faremo le nostre proposte Ecco una proposta La indirezzerete dritti dritti al ministero Esattamente al ministro Che sarà presente al nostro incontro Il ministro Andrea Orlando Gli faremo la proposta Di eliminare la parola Di eccesso di legittima difesa Dal codice penale Cioè in pratica L'attuale legge Che è stata approvata la Camera E poi deve passare al Senato Attualmente è ferma Quindi abbiamo anche dei dubbi Che verrà approvata Prima della fine Della legislatura Cosa dice? Che ti puoi difendere Solo di notte E solo in determinati casi Di pericolo Allora io mi chiedo Perché se un lad Dormi e entri in casa Alle 10 del mattino Alle 3 del pomeriggio Non posso difendermi Mentre posso farlo Alle 4 di notte Anche perché noi partiamo Da un concetto Che se una persona Entri in casa Senza il nostro consenso Senza il nostro volere Vuol dire che non ha Delle intenzioni Diciamo positive Non viene a prendere un caffè Non viene per farci i complimenti Ma viene o per rubare qualcosa I nostri averi Oppure anche per farci del male Quindi siamo anche in pericolo Con le nostre persone Quindi il fatto che Chi abita in casa I proprietari Possano e debbano difendersi comunque È sicuramente La nostra posizione Noi siamo Voglio essere chiaro Dalla parte delle vittime Comunque e sempre Senza se Senza ma Oggi protesta In prefettura Davanti alla prefettura Dei sindacati Della Cise Della Cigelle Da parte del personale Del centro giustizia Minorile Del Pratello Per denunciare La carenza Di organico Che mette A rischio La qualità Dei percorsi Di riabilitazione Per i minori Stessi Tra l'altro Si è parlato addirittura Che non hanno Come dire Le gomme termiche Per le auto di servizio E quant'altro Allora Siamo andati appunto A seguire questo momento Di protesta Abbiamo intervistato Mario Durante Della Cisla Bologna Lo ha fatto per voi Michela Conficconi Stiamo contro Il Dipartimento Della giustizia minorile Perché è assente Su alcune problematiche Che sono datate E strutturali Innanzitutto La carenza di personale E di organico C'è da tenere presente Che il Dipartimento Della giustizia minorile Ha come missione Quello di seguire Il recupero Dei ragazzi minori Deviati E quindi È un compito Sicuramente Molto delicato E importante Quindi c'è bisogno Di professionalità Queste professionalità Sono sempre meno Si riducono Costantemente E sono più di 20 anni Che non si fa un concorso E quindi Lei può immaginare Che il carico di lavoro Oggi È aumentato In maniera esponenziale Quali sono le figure Che mancano E di quanti posti Ci sarebbe bisogno Una pianta organica Precisa Ancora non è stata Non è stata Definita Però Le carenze Più importanti Sono sicuramente Nel servizio sociale Insomma Gli assistenti Sono le figure Del servizio sociale Però mancano anche I tecnici Amministrativi Perché chiaramente Concorsi Non se ne sono stati Fatti Quindi Il personale Se 5-6 anni fa C'erano Più di 50 persone Oggi Si sono ridotte Notevolmente Quindi Manca personale Il risultato di questo È che non sono seguiti I ragazzi I ragazzi sono seguiti Continuano a essere seguiti Però è chiaro Che con notevole difficoltà Vengono seguiti Perché Il lavoro Viene fatto Con sforzi notevoli Poi non hanno i mezzi Non hanno telefoni Non hanno Una macchina di servizio Ci sono solo due macchine Di servizio Per girare Su tutta la regione Diventa complicato 10 ordini Di allontanamento Nei confronti Di altrettanti Persone Senza fissa dimora Che sono soliti Stazionare Da qualche anno Sotto i portici Dei viali Oppure del centro storico Di Bologna Esordisce così L'applicazione Del cosiddetto Daspo urbano Provvedimento previsto Dal decreto Minniti Convertito Nella legge 48 Del 2017 Che consente I sindici Di disporre anche Misure di allontanamento L'intervento Ha avuto luogo Nella serata di ieri Vigili urbani I agenti di pulizia Hanno fatto alzare Le persone Che dormivano Sotto le coperte Sdraiate su materassi Accerchiati da persone Masserizze Hanno notificato loro 10 ordini di allontanamento Dormendo sotto al portico Si legge nella nota del comune Le persone colpite Dai Daspo Impedivano di fatto La fruizione Del passaggio pedonale Nelle vicinanze Di infrastrutture Ferroviarie Questo è stato Questo è quanto appunto È stato detto Netta la replica Per quanto riguarda La politica Leggere che a Bologna Sia stato usato Il DASP urbano Contro 10 persone Che dormivano sotto i portici Mi fa molto male Le nostre città Un tempo Provavano a dare un tetto A chi non ne aveva uno Mentre ora si preoccupano Di cacciarlo Lontano dagli occhi Così il deputato Di sinistra italiana Giovanni Paglia Che commenta Questo provvedimento Resta da capire Se sia peggiore Il mandante Minniti O i tanti sindaci E esecutori E adesso ci occupiamo Invece dell'ospedale Maggiore Perché forse Si è trovata Una soluzione Per quanto riguarda Il parcheggio E soprattutto I parcheggiatori abusivi Sarebbe arrivata Infatti La via libera Da parte del Consiglio Comunale di Bologna Alle sbarre Anti abusivi Per il nuovo Parcheggio del Maggiore L'assessore al traffico Irene Priolo Ha spiegato il provvedimento Il progetto porterà Un potenziamento Dell'attuale capienza Di parcheggio Che speriamo Venga anche liberata Dai posteggiatori abusivi E sarà anche un'occasione Di riqualificazione Di tutto l'ambito L'operazione Precederà L'interramento Dei nuovi posti Auto in via In Largo Nigrisoli E sarà confinanziato Dal Comune Che metterà Un milione e mezzo E dall'azienda OSL Che ne metterà Invece Due milioni Vi ricordo Che questa sera A proposito Di ospedali Di sanità Torna Il programma Del nostro medico conduttore Michele Cassetta Salutando Si parlerà Di fumo Quindi alle 21 Torna Salutando Su Nettuno TV Vi ricordo anche Che andremo a seguire Invece Il rosario Che verrà appunto Questa sera Insieme ad una processione Alla rotonda Del camionista Di Borgo Panigale Per ricordare La prostituta Uccisa Assassinata Da un cliente Ovviamente Vi riproporremo Tutte le immagini Nella giornata Di domani Adesso però È arrivato il momento Di parlare di sport E allora vedo Già pronto Giacomo Bianchi Partiamo dal Bologna Perché dopo la vittoria Di lunedì sera Contro il Verona I rosso-blu Continuano a prepararsi Ad allenarsi In vista della sfida Di sabato pomeriggio Si gioca infatti Contro la Sampdoria Alle 15 Un orario inedito Per una gara Del sabato pomeriggio Oggi la squadra Ha svolto un allenamento Incentrato su una seduta Di forza e di tecnica Con una partitella finale Legata anche A sfide di calcio-tennis Tutti presenti in gruppo Tra questi anche Bruno Petkovic Nonostante l'influenza Che l'ha colpito Nei giorni scorsi Ad eccezione L'unico assente Era invece Federico Di Francesco Che ha continuato A svolgere terapie All'isokinetic Domani invece Altra seduta di allenamento Però a porte chiuse Perché mancheranno Solo due giorni La sfida contro la Sampdoria E dunque Roberto Donadoni Come sempre Preferisce guardare In casa propria Senza che ci siano occhi Che non devono vedere L'allenamento del Bologna A proposito della gara di sabato Ci sono già 18.000 persone Che hanno preso il biglietto Tra buonamenti i biglietti Che andranno a riempire Il Dallara La cura a Bulgarelli È esaurita Vi ricordo anche La possibilità Per gli studenti Dell'università Di acquisire il biglietto Al presto di 15 euro Presentando il badge universitario Tramite il circuito Viva Ticket Vi rimando comunque Al sito www.bolognafc.it Per tutte le informazioni Del caso Parliamo adesso di un libro Che è in uscita Nei prossimi giorni Il libro che parla Della maglia del Bologna Scritto da Federico Monti E Marco Bertuzzi Andiamo a vedere Questa clip Che riporta Un messaggio Una dedica interessante Da parte del presidente Joyce Apputo Eccolo qua Grazie al sito www.bolognafc.it Da quale abbiamo recuperato Questa clip Insomma Nella prossima settimana Verrà presentato il libro Con diversi approfondimenti Che correremo anche noi Di Nettuno TV Parlando di basket Invece approfondiamo Il discorso Fortitudo Vi ricordo che In casa Virtus Non si prepara La sfida di domenica Perché c'è la sosta Legata alla nazionale italiana In casa Fortitudo Invece ci si allena In vista della gara Contro Ravenna Appuntamento domenica Alle ore 18 Appuntamento legato Ad un grande ex Perché Matteo Montano Tornerà al Paradozza Per la prima volta Ad avversario Oggi durante Nettuno Sport Lo abbiamo sentito Andiamo a sentire Un piccolo estratto Delle sue parole Quindi Io sono solo Più che contento Di ritornare a Bologna E di ritornare davanti Al pubblico Fortitudo Quindi sarà Sarà una bella Una bella emozione Partirei proprio da questo Perché nei giorni scorsi È uscita una tua intervista Nella quale hai detto Che non sai Che accoglienza aspettarti Mi viene da dire però Che dopo tanti anni Passati in Fortitudo Con tutto quello Che è successo Soprattutto negli ultimi anni Tra la Serie B Primo anno di Serie A Ma anche la scorsa stagione L'accoglienza non può Che essere positiva Almeno questa è la mia sensazione Dai No certo Penso anche io Però Avendo vissuto La Fortitudo Quando Nei tempi Quando ero bambino Quindi dei vari mostri sacri Basile Poz Eccetera Eccetera Sai Io magari Provo a paragonarmi a loro Capito Mi sembra Un po' inusuale Che magari facciano Una bella Cioè Che facciano Come facevano Con Con quei giocatori Con gli ex giocatori Fortitudini Quindi Per quello Era quello il mio Non sapere cosa aspettarmi E' ovvio che Mi farà Mi farà piacere Sentire il calore Della gente Che mi ha sostenuto Per tre anni E che Che mi ha voluto bene Che me ne vuole tuttora Perché comunque Ci sono tanti amici Tante persone Che ho conosciuto Con cui ho Dei bei legami Possiamo dire che non sarai Per niente intimorito Dai Questa è la sensazione Sai cosa vai incontro Ci sono giocatori Che quando si trovano davanti Al pubblico del Paladozza Magari possono Essere un po' intimoriti Gli possono tremare un po' le gambe Mi sembra che Matteo Montano Da avversario Questo problema Non possa assolutamente averlo Me lo auguro Ecco Diciamo che comunque So cosa mi aspetta Perché quelle Quelli sono stati Sono state Stesse persone Che mi hanno Mi hanno Esaltato Per tre anni Quindi So cosa aspettarmi Ovvio che non ti nascondo Che sicuramente Ora come ora Sono tranquillo Ma sicuramente Quando calcherò Il parquet del Paladozza L'emozione Un po' di emozione Ci sarà Questo era Matteo Montano Vi ricordo che per seguire Per rivedere L'intervista integrale Scusate Potete andare sul nostro sito www.netunotv.tv O sulla pagina Facebook Per rivedere La lunga chiacchierata Con il giocatore di Ravenna La fortitudo come detto Si prepara Guardiamo In casa Bianco Blu È rientrato Matteo Chillo Ad allenarsi con la squadra Quindi sarà a disposizione Di Matteo Boniccioli Per la sfida Di domenica Mentre si è fermato Montanari Che ha preso un colpo Giocando con l'Under 20 E dunque ieri Non si è allenato Regolarmente Con i suoi compagni Stando appunto Al roster lungo Di Matteo Boniccioli A questo momento Con rientro di Chillo Ci sono 11 senior Ne possono andare in panchina Solo 10 Quindi dovranno essere fatte Delle scelte Nel corso di questa settimana Era l'ultima notizia Della nostra pagina sportiva E del telegiornale Vi ricordo l'appuntamento Con l'informazione Domattina alle 7 Con la rassegna stampa Grazie alla regia Di Marco Sortino E a voi tutti Buon proseguimento di Salata